Non è più emergenza e inquinamento. La situazione è pienamente sotto controllo e anche il danno d'immagine subito dalla Sardegna è limitato o sarà ridotto al minimo per la stagione estiva. L'ho detto nella conferenza stampa convocata presso la prefettura di Sassari, il presidente della regione, Ugo Capellacci, che ha fatto il punto dopo una lunga giornata di sopralluoghi e alla fine della riunione del tavolo tecnico ospitato nella prefettura. Riunione a cui hanno partecipato le province di Sassari e di Olbia Tempio, la direzione marittima di Olbia, i rappresentanti di EON davanti al prefetto Marcello Fulvi. Si lavorerà ancora dei mesi con tre squadre specializzate, ha detto Paolo Venerucci di EON, ma se possibile si ripristineranno le condizioni ambientali ad un livello migliore di quello precedente al fatto. Lo sversamento di olio, che ha specificato il rappresentante di EON, è avvenuto da un foro di pochi millimetri nella condotta danneggiata. La presidente della provincia di Sassari, Alessandra Giudici, ha ricordato che martedì prossimo saranno resi noti i risultati dell'analisi dell'ASL sul pescato e bisognerà attendere quei dati insieme a quelli dell'ARPAS per dichiarare rientrata l'emergenza. Il comandante della direzione marittima di Olbia, Franco Persenda, ha chiarito come mai non fossero stati rilevati per tempo i materiali inquinanti che sono arrivati nelle coste galluresi e poi a Stintino. La TR42 della Capitaneria non aveva percepito la macchia che probabilmente si trovava a circa mezzo metro sott'acqua e che quasi certamente proveniva dalla stessa fonte di inquinamento del primo materiale spiaggiato. Il presidente della provincia di Olbia Tempio, Federe Sanciu, ha evidenziato la collaborazione di tutti gli attori impegnati nell'emergenza, compresa EON, che ha agito con trasparenza. Ora, ha concluso Cappellacci, in un prossimo incontro presso il Ministero dello Sviluppo Economico, si farà il punto sulla trasformazione dei gruppi a olio combustibile nella centrale, passo irrinunciabile per il futuro dell'economia e dell'ambiente nel nord Sardegna.